A Madrid si è celebrata a lunedì la giornata europea del ricordo delle vittime del terrorismo. Proprio nella capitale spagnola, vent'anni fa, un attacco jihadista alla stazione ferroviaria di Atocha uccise 191 persone e ne ferì quasi 2000. Le bombe di Atocha furono il primo degli attentati in Europa dell'epoca post 11 settembre e l'occasione per istituire la giornata europea del ricordo. In Francia invece la commemorazione delle vittime del terrorismo è avvenuta nella cittadina di Arra. In un liceo della città lo scorso ottobre uno studente di origine cecena aveva accoltellato diverse persone e ucciso uno dei suoi professori, Dominique Bernard. Grazie.